ciao bentornati a tutti allora il punto sul bitcoin siamo sul time frame weekly e vediamo come la situazione offra degli spunti grafici molto molto precisi secondo me dal webinar di domani sabato alle ore 10 analcati vedremo un focus su dollar index quindi un driver per tutti i mercati per iscriversi gratuitamente l'individuo è in descrizione sotto al video allora bitcoin time frame weekly abbiamo la candela attualmente informazione che possiamo considerare darla per buona perché chiaramente siamo alle 18 di venerdì candela di stampo di bassista quindi una pinna a salire riassorbita poi basso i 30 mila ma soprattutto i 30 2000 sono un'area di resistenza statica molto molto precisa lo andiamo a vedere immediatamente è estremamente preciso eccoci qua è stato nel passato 2000 inizio 2021 supporto quindi l'up trend rottura del livello e viene validato come supporto successivamente sempre nel 2021 a metà 2021 per un buon periodo per oltre un mese ancora come supporto poi c'è stato un riavvicinamento vedremo come anche questo livello è sentito dal grafico come proprio ci sia tutta un'area di resistenza tra i 30 e 30 2000 e il pullback avvenuto nelle ultime tre settimane in maniera molto molto precisa chiaramente su un arco temporale così esteso dobbiamo per forza parlare di aree di prezzo e non di livelli cercando una precisione che diventerebbe quantomeno assurda vediamo proprio la trend line dinamica come anch'essa funzioni in maniera precisa come area di supporto e ancora più precisamente e qui appunto venga rotta quindi vediamo come i 32 e poi fondamentalmente 34 mila euro sia tutta sia tutta un'area interessante perché se noi andiamo a duplicare semplicemente ci mostra come ci sia proprio nel lunghissimo periodo un livello molto molto chiaro una sorta di canale ecco chiaramente abbiamo una retta perfettamente parallela questa le due tratte già le sono perfettamente parallele quindi una sorta di canale mojo vediamo qui che è stato corrotto al ribasso quindi è chiaramente un segnale ribassista chiaro e secondo me da conferma che ancora si potrà si potrà scendere sul sul bitcoin quindi sono due le resistenze importanti di pullback e sostanzialmente terminiamo evidenziando una terza area di resistenza una terza 30 anni scusate che conferma l'area di resistenza tra i 32 e 34 dollari e quindi ecco proprio siamo a un livello della vita del grafico dove ci può essere una svolta per avere ancora una nuova gamba ribassista dopo la rottura e il tentativo di ritraccio quale potrebbe essere a questo punto un livello al quale il prezzo potrebbe arrivare credo che potrebbe essere graficamente plausibile questo livello dei 22.500 dei 22.000 ecco qua un livello che graficamente molto preciso perché il minimo di questa candela è sostanzialmente una una trend line che aveva dato il la a una parte del sistema poi è stata è stata retestata quindi questo livello sono potrebbe essere raggiunto chiaramente questo poi sarà un livello interessantissimo area 22.000 22.500 in ottica long perché avremo probabilmente la fine di tutto quello che è un lungo ciclo che determinerà una base credo probabilmente molto solida sulla quale andare a cercare ingresso nel periodo però per ora chiaramente ancora credo sia troppo presto mi aspetto sostanzialmente una nuova gamba ribassista con target 22.500 di medio periodo ovviamente sul bitcoin ci vediamo al webinar di domani buon trading a tutti